Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 27 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Tutte le carte in regola per tenere la situazione. Il temporale scatenato da Plutone stamani dovete aspettarvelo, magari in escursione dove potrebbe bagnarvi come pulcini. Qui però il condizionale è d'obbligo, perché a ripararvi dall'acquazione aprendovi un ombrello lilla provvede il grande giove, protettivo anche all'opposizione. Pioggia e non pioggia aprire e chiudere il borsellino non è fastidioso come farlo con l'ombrello, infatti spendere e spandere non vi crea disagio, tutt'altro, con l'approvazione della luna golosa e goduriosa in seconda casa sarà persino piacevole. Sul lavoro, in gita, oppure in famiglia, nel rapporto coi figli adolescenti e un po' ribelli, la patata bollente tocca sempre a voi, che sapete sbucciarla con disinvoltura, mascherando l'ustione dietro a un sorriso. Eventi imprevisti, anche di notevole portata, sul fronte degli incontri ci sono buone nuove, ma anche in amore non mancheranno le novità. Avete bisogno di controllare la situazione e governarla per venirne a capo, mettete in campo tutta la vostra abilità e autorità. Risolvete subito un problema che vi assilla ad alcuni giorni, la soluzione migliore sarebbe trovare una soluzione definitiva, ma anche una parziale va bene. La notizia che state aspettando non tarderà ad arrivare. Ci sono buone speranze di riuscita in un affare. Imparate ad aprirvi agli altri e fate della diplomazia la virtù che vi distingue. Ma soprattutto non rinunciate a vivere evitando di conoscere gente nuova. Per alcuni di voi è sconsigliabile uscire per shopping, ci saranno delle spese impreviste e quindi meglio rispamiare in vista di queste. Giorno perfetto per andare in gita o in un luogo di montagna. Tenderai a idealizzare persone e avvenimenti. Più realismo. Notizie inattese potrebbero giungere, particolarmente, ai nati di giovedì e sabato. Per gli altri la situazione sentimentale appare stazionaria senza grossi sconsoni. Amore e amicizia oggi vi sorridono, approfittatene e rendetevi disponibili ed aperti a qualunque tipo di serata. E un periodo in cui divertirvi e distrarvi vi farà sicuramente bene. Oggi riceverete con ogni probabilità una gran soddisfazione, una piccola rivincita con chi vi ha da sempre maltrattato. Non infierite però. C'è qualcuno che, da lontano, vi pensa, del resto anche voi avete difficoltà a dimenticarlo. Però i tempi per un riavvicinamento non sono ancora maturi. A indicarvi la rotta da seguire oggi per voi c'è Saturno, profondo consigliere che innalza i vostri intendimenti, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 5 al 12 del mese di novembre. Perché voi continuate ad avere il timone della situazione in mano, facendo conto su una vigorosa sicurezza nei vostri mezzi e su una bella carica di ottimismo, che sul vostro temperamento tradizionalmente diffidente non guasta. Quanto costa la vita, ecco il commento della luna, che suona strano in un segno generoso e spendaccione come il sagittario nella vostra seconda casa, ma se avete una famiglia impegnativa e una casa con un mutuo costoso, il vostro disappunto è più che giustificato. Se questo ponte lo trascorrete in città non vi priverete comunque due piacere di concedervi piccoli acquisti o qualche lusso come una buona pizzeria o qualche dolce. Amore ed eros. Batti becco familiare su questioni finanziarie, se le vostre scelte vengono criticate ve la prendete subito a male, chiudendovi in uno sdegnato mutismo. Impulsività nei sentimenti ma state ben attenti a non darlo a vedere. Tiene accesa la fiamma di un ardore che si diffonde come il calore della primavera, un prorompente Marte, che indica la strada di nuove mete erotiche da raggiungere. Correggerà alcune imprese azzardate e porrà freni alle vostre adorabili incoscienze un illuminato Saturno, specie se appartenete alla seconda decade. È Nettuno invece ad allargare l'universo emotivo con veri e propri nuovi amori da coltivare, in special modo se nascete dal giorno 16 al 21 del mese di novembre. Lavoro e denaro. Spesucce e spesone motivate da varie ragioni, alcune impellenti, altre soltanto frivole. Tra le improrogabili un guasto in casa che vi costringe a correre in fretta e furia al centro commerciale per sostituire l'elettrodomestico danneggiato. Occhio ai fornelli, troppo presi dalla ricetta o al contrario troppo distratti, badate agli ingredienti ma non alle vostre dita. Per chi è in gita grazie al ponte escursione faticosa ma di grande soddisfazione e impatto emotivo, peccato che vi venga una fame da lupi. Il vostro intelligente dinamismo vi porta lontano oggi nell'attività professionale, in special modo se avete abbracciato una professione autonoma. Marte in pesci, vostro nome tutelare e attualmente potente alleato, vi presenta un bilancio di tutto rispetto che potete esibire presso i vostri capi, in particolar modo se siete nati nella terza decade. Benessere. Riflusso o singhiozzo, segnali di gastrite o quanto meno di pressione emotiva che vi prende lo stomaco, siete nervosissimi, dormite male e scattate come molle, avreste bisogno di fare più moto. Buono lo schema alimentare, chi vi ha consigliati sa il fatto suo. Denaro. Quali sono i metalli, che, in base alle combinazioni astrologiche, vi portano maggior fortuna? Per il vostro segno l'acciaio, governato da Plutone, pianeta principe del vostro segno. Portate qualche piccolo pezzo o oggetto con voi. Vi propizzerà la buona sorte. Per lei, guasto improvviso in casa o all'auto e ora bisogna trottare per trovare al più presto un tecnico o un meccanico qualificato. Per lui, cappello da chef e ricettario alla mano, di regola ai fornelli siete veri maghi, ma se vi nervosite rischiati di bruciare l'arrosto. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 7. Finanze, 8. Beneessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video.